Un tonfo sordo proveniente dal piano superiore della sua abitazione, così una donna di Bucine si è svegliata nel cuore della notte. Una volta verificato quello che era successo, ovvero lo svenimento del figlio, ha subito lanciato l'allarme al 118. Una volta arrivati sul posto, i colleghi che erano stanotte in centrale hanno inviato inizialmente un primo mezzo con i soccorritori, i quali una volta arrivati sul posto hanno avuto attraverso il sensore che abbiamo a disposizione, il lavatore di monossido, il segnale della presenza di monossido di carbonio. A quel punto lì è stato cercato di evacuare il locale, è stato cercato di arearlo, è stato attivato anche il mezzo automedica del Valdarno, un medico di infermieri, i quali attraverso anche i loro rilevatori hanno confermato la presenza di questo gas. In tutto 5 le persone intossicate, padre, madre e un bimbo di 5 anni trasportati in codice giallo a Careggi in camera iperbarica e i due nonni arrivati in codice verde al pronto soccorso della gruccia di Montevarchi. Il monossido si sarebbe sprigionato da un barbecue lasciato in un luogo chiuso dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigi del fuoco, essenziale in questo caso il rilevatore di monossido di cui gli equipaggi del 118 di Arezzo Siena e Grosseto sono dotati. Inizia a suonare, lampeggia, emette un sibilo, indica che dobbiamo areare il locale e dobbiamo a questo punto anche porci il dubbio che il problema per cui ci hanno chiamato la natura a questo punto può essere intossicativa e non magari del sospetto che ci eravamo fatti dalle prime domande. Grazie